Beato Guglielmo Greenwood Guglielmo Greenwood, martire cistercense, trapassato intorno al 1537, fratello laico della Certosa di Londra, fatto morire di fame a Newgate insieme a sei compagni, è stato beatificato nel 1886. Non solo il singolo ha un io, ma anche i fedeli di una religione hanno un io, un io collettivo, ed anche i fratelli scismatici di una religione hanno un io, tanto da uccidere i fratelli con cui condividevano la loro fede. Di che cosa è capace la mente dell'uomo? Grazie. 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 Grazie.